... Ragazzi, dove siete? Dove siete? Siamo qua, siamo qua... Adesso è il momento di Roby... Oh 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 oh... È successo quello che ho sempre sperato? Cioè? No, sto scherzando... Roby, vai, tocca a te perché adesso è questo il tuo momento... Diciamo che... Quale momento? Qui realizziamo il tuo sogno, no? Ah, quel sogno? Quel sogno, di cui ci parlasti... Questo è il mio sogno... E questo è il dabatto del comitato a Roby... Grazie, il comitato di Kurti, che meraviglia! Un applauso al comitato di Kurti! Grazie! Grazie! Davvero grazie di cuore! Davvero tempestivo il comitato! Sì! Ho detto tempestivo e non tempesta, eh? Perché in realtà... Perché non ci so mai... Grazie, grazie davvero Kurti, grazie! No, non si parla... Guarda, non si parla... La preferiamo anche noi, sicuramente! Roby! Nel tuo momento ti hanno dato questi fiori! Allora, questo in realtà... Diciamo che quando ho fatto questo programma, mi sono proposta come cantante... Ah sì? Sì! È questo quello che vuoi dire, no? Sì! Allora, c'è... Beh, però il mio sogno, sin da bambina, c'era una volta una piccola bambina grassottella che voleva fare danza... Quello era il mio sogno, ma la natura, la non preparazione, non me l'ha permesso... E allora questa sera, sotto la pioggerella, mi sfogherò... Vi farò vedere quello che non so fare, cioè ballare... Però, come tutte le bambine, io sogno di... Io ballo! Wow, 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 wow! Whats ... Where? Bina la world! In the world! In the world made of steel Made of stone Per Rasp California In the world made of steel Grazie a tutti 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 Grazie a tutti